Sono disposto a sostenere un governo, a dar vita a un governo, visto che il centro-destra è la coalizione che ha vinto, che parte dal programma di centro-destra, e quindi dalla cancellazione della Fornero, dalla riduzione delle tasse, dal controllo dei confini e le espulsioni di clandestini. Sono disposto a ragionare di redditi, inclusioni, di redditi di cittadinanza, di prestito per reintroduzione al mondo del lavoro. Sono disposto a ragionare di tutto, basta che si parta dal voto degli italiani. I lavori in Parlamento sono partiti subito, senza litigi, senza settimane di attese, coinvolgendo tutti. Questo mi dà una bella soddisfazione, visto che la Lega ha svolto un ruolo di mediatore e ha ceduto passi ad altri. Non è che uno possa sedersi al tavolo dialogando, dicendo tu non mi piaci, vai via. Si parte dai progetti, non dai nomi, dalle persone, dai premi, si parte dalle cose da fare, tasse, lavoro, sicurezza. Io sono molto preoccupato perché per il terzo giorno consecutivo c'è stato un blitz antiterrorismo islamico in Italia e non vorrei che qualcuno avesse sottovalutato il problema. Non voglio essere cattivo profeta, però quando chiedevamo controlli, verifiche, espulsioni, dicevano che seminavamo odio, paura, ingiustificata. Temo che questa paura fosse più che giustificata. Detto questo, abbiamo delle forze dell'ordine all'altezza e con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua. La mia ambizione e il mio onore sarebbe rappresentare tutti gli italiani facendo il Presidente del Consiglio. Però a me interessa lavorare per l'Italia, quindi non è una pregiudiziale. Qualcun altro dice o io o il diluvio.